Il mio nome è Ettore Finazzia Gros, il suo professor oggi di litteratura portoghese alla Università di Roma, la Sapienza, ho lavorato durante molti anni nella Università di Bologna, poi ho portato a Roma, e ora sto con un professor titolare nella Sapienza. La mia entrata, in realtà, nella literatura, nella literatura, nelle literaturas lusofono ma era attraverso la Idade Média. E a partir dì ho cominciato a lavorare con la literatura del século XVI, con la literatura del século XX e, dopo di Fernando Pessoa, mi appassonei, in realtà, per questo rispetto. Comecei per lì, il mio lavoro con la literatura brasilella. Non diria che si tratta di una literatura postmoderna, o in certi settori appena, io potrei parlare, applicare questa dell'etiquetta di letteratura postmoderna. Ma è una letteratura molto rica, nel senso che ha autori di diversa natura, alcuni che lavorano con la letteratura urbana, altri che lavorano con la letteratura, ancora, sertaneja. Quindi, quella varietà che è típica, diciamo, del universo brasileiro, è spiegata nella letteratura. È per questo che è una letteratura extremamente interessante, perché non ha un tema predeterminato, fixo. È una letteratura extremamente heterogenea e che si può incontrare di tutto. È anche una letteratura che non che non ha nulla a vero, per esempio, con il contesto in cui è stata nascita. Nessi ultimi anni, abbiamo assistito a una diffusione e a una traduzione di obras brasileiras in Italia. E non solo di autori consagrati, ma anche di autori che qui parecchano poco conosciano e che rispondano l'interesse, magari non delle grandi editori, ma delle piccole editori che hanno una diffusione, che è abbastanza importante. Le grandi autori, le grandi obras hanno una continuità di vendita. sono quelle che normalmente chiamo di «long sellers», che sono vendita, appassare di tutto, quindi sono reeditata e vendita. Sto pensando, per esempio, in grande Sertão Veredas, sto pensando in Macunaíma. Il caso, tal vez, di una scrittura che fosse, in un senso senso, sequestrata da una editora italiana, che ha deciso di non reeditare e non lasciare editar per le altre editori. Una cosa che riparò molto, anche tra i studenti, è che quando si rendono conto di che una regione, una cultura, sta se sviluppando in un senso economico, quindi hanno molto interesse in relazione a questa cultura e molte persone cominciano a lavorare e a studiare la literatura, la lingua portuguesa. prima era, soprattutto, un interesse in relazione alla lingua portuguesa come lingua dell'Unione Europea, come lingua comunitaria. Ma ora, io credo che il numero di alunos che entram per i corsi di literatura portuguesa e di lingua portuguesa e di lingua portuguesa e di lingua portuguesa. Un organismo che centralizzare, usa, diciamo, tutta parte di promozione della cultura brasiliana al mondo. Il che si è, per esempio, è il portugale. Come si sembra, che in ultima settimana portuguesa ha passato per molti problemi economici, ma c'è il Instituto Gamont, c'è il D.A.D. in Alemanca, il Coffecube in Francia. Non c'è nulla di parecchio nel Brasile. Questo famoso, molto parlato, l'Instituto Machado Assis, che non c'è stata mai realizzata. È una giusta molto importante per la difusione, non solo a livello académico, ma in generale della cultura brasiliana. Quanto al apoio che il governo brasiliano potrebbe dare per la difusione académica della lingua portuguesa del Brasile, dell'Università, la lingua portuguesa del Brasile. dell'Università, perché, alcuni anni fa, non sto parlando di Roma, perché Roma è un caso particolare, sendo la maggior università, che è la maggior università della Italia, è una delle maggiori dell'Europa. quindi sempre aveva un apoio per parte della Embaixada, per parte del governo brasiliano, dell'Itamaraty. Ma, in generale, quello che... l'Itamaraty, la situazione è stata di sviluppo di sviluppo di sviluppo del portugueso con la presenza di lettori del Stato Camonti. Quindi, molte volte, i nostri alunos apprendono portugueso nella modalità portuguesa, europea, non nella modalità brasilella. e questo crea, evidentemente, un problema.